Una quinta edizione di Tawave incredibile che parte con delle connessioni importanti, con associazioni con cui collaboriamo solitamente come la Ionian Dolphin Conservation, con Studio Cento che è il Media Partner, abbiamo portato l'Italia a Taranto, alcuni dei massimi esponenti del mondo HR grazie ai temi che affronteremo, Employer Branding e Intelligenza Artificiale. Tawave si trasforma per questa quinta edizione, infatti l'evento ha una duplice figura, la prima che è quella del Business Retreat, apriremo le porte ad un'esperienza che prevede formazione, workshop formativi ed esperienze da far fare ai partecipanti, dall'altra parte l'evento apre le sue porte al pubblico e quindi aspetteremo chi vorrà all'evento Tawave il 25 ottobre dalle ore 18.30.